E a lei piace andare in moto, io vedo tutte le stories. Io sono idrata. Posso più, sì. È una cosa che lei, incredibile, ha nel DNA. Sai, il sabato lei va al ranch. Va al ranch, si mette lì, guarda le prove, guarda i piloti. Però magari cambierà la cosa, sarà lei la prima campionessa di MotoGP della storia, non lo so. Quando diventi genitore sembra di perdere il senso dell'orientamento. Per fortuna però ci sono tanti amici conoscenti con cui confrontarsi per provare a costruire la propria dimensione di genitori. Io sono Diletta Leotta, mamma di Aria, e questo è Mamma Dilettante 2. Nuovo episodio di Mamma Dilettante con una super mamma, che ormai dilettante non è più, Francesca Sofia Novello. Ciao Franci, benvenuta. Ciao a Dile, grazie mille, grazie dell'ospitalità in questo studio. Ti piace? È un po' la cameretta di Aria, più o meno. Sì, sì, stupendo. La cameretta di Giulietta com'è, Rosa? Sai che è molto simile, ti devo dire la verità, ha anche lei orsacchiotti, un po' di wasserie, ha una carta da apparati con gli animaletti, però è molto, me la ricordo. Sì, anche l'armadio è così. In realtà Aria ancora non ha una vera e propria cameretta. Dormi con voi? No, devo ancora fare, la devo la storia, la sto sistemando, io sono un po' in ritardo su tutto. Beh, ma Giulietta ha iniziato a usare la cameretta adesso che ha quasi due anni, perché prima la cambiavo e basta lì, perché ha dormito con noi praticamente sempre. Sì, ha dormito con te Vale? Sì. Ah, che bello. Sì, siamo caduti subito in questo errore, che però è la cosa più bella del mondo, trovartela lì il mattino quando ti svegli è proprio… E tra l'altro, Franci, tu sei una delle prime e forse anche parlando con te mi è venuta in mente questa idea di fare questo progetto, mamma dilettante, perché dovete sapere che Franci è stata la prima a sgamarmi. Subito, ragazzi, è stato epico. Abbiamo fatto un evento in Fashion Week, ci sediamo di fianco, un po' di imbarazzo, dai così, ciao, come stai? No, bene, antipasto, arriva questa portata di prosciutto crudo e vedo che diretta mi sta a guardarsi intorno, quindi non mangia niente, non ha mangiato niente. Ho detto, boh, oh, magari non le piace, è possibile. Sì, certo. Dopo un minuto, Franci, ascolta, ti volevo chiedere due cose, 45 minuti se non un'ora a chiedermi della pancia, della gravidanza, del postparto, del parto. Ma perché avevo mille dubbi, mille incertezze, ero incinta da... Ti ho beccata subito, subito, subito. Però eri piatta, avevi le tue belle forme. Sì, però hai sempre avuto, devo dire, che non è che ho detto, ah, una mamma che diventa la mamma. Sì, perché ero proprio in quel periodo in cui volevo sapere tutto, avevo mille curiosità, mille incertezze, mille dubbi, mille paure. L'avevo detto subito a Valentina, ho detto, amore, ma sai che secondo me la violetta è incinta perché mi ha massacrato, un'ora e mezza di pranzo fa dare solo della gravidanza. E infatti dopo poco l'hai annunciata adesso. La tua gravidanza com'è andata? Cioè tu dopo quanto l'hai annunciata invece? Allora, è stata una scoperta anche per noi, quindi non lo stavamo cercando ed è capitato. E quindi non mi sono accorta subito perché stavo smettendo il mio anticoncezionale di prima per iniziare quello nuovo, quindi il ciclo non era proprio regolare e non ho calcolato un ritardo mestruale. E quindi non avevo capito subito. E quando hai visto il test? No, dovevo andare a Milano a fare il bacino, la seconda dose, io in autostrada guidavo, mi fermo a bere un caffè, bevo sto caffè, una nausea, una puzza, una roba. Ho detto vabbè, che strano, parlo con mia mamma e gli dico mamma, ma sai che strano, ho bevuto un caffè in autogrill, ma sto malissimo, ah sei incinta, sicuro sei incinta? Gli faccio mamma, non sono incinta, cioè sei stati attenti, ma figurati, uno bisogna anche un attimo, tu prima di fare il vaccino fai il test. Cioè va bene, arrivo a casa, lei già con il test fuori dalla porta, io cioè sbiancata perché non lo stavamo né cercando e non era neanche il momento giusto perché Valentino stava smettendo di correre. Io avevo appena cambiato agenzia, stavo iniziando a fare dei lavori nuovi, avevo un sacco di progetti, un sacco di progetti tranne quello di diventare mamma. Quindi all'inizio è stato uno shock, 4-5 giorni a piangere come una fontana perché sì. E Vale come l'aveva presa? Vale era fare una gara, non aveva ancora deciso di smettere di correre, era in quel momento in cui stava cercando anche lui un segnale oppure il momento giusto per smettere. Fa questa gara, lo stesso weekend che io ho scoperto di essere incinta senza dirglielo a lui perché era quale questa gara. Ah tu sei stata tutto un weekend senza dirglielo. Sì, io ho fatto questo test. Scusa e lui non si è accorto di niente. Io faccio questo test il giovedì, dovevo fare il vaccino il venerdì quindi faccio questo test di gravidanza giovedì con mia mamma. Lui parte per questa gara. Io scopro subito che ero incinta il giovedì e lui tornava la domenica sera. Quindi ho detto non vado a dirgli che sono incinta quando lui è in un weekend di gara, che comunque è un momento che lui deve stare in focus, non glielo dico. Faccio i cavoli miei a piangere, stavo malissimo. Lui diceva amore hai fatto il vaccino? Sì amore sto malissimo, ho una febbre. Invece in realtà ero disperata. E' una mia ormonia a palla. Lui fa questa gara, questo weekend e va molto forte. La domenica parte, parte davanti, tipo tra le prime posizioni, durante la gara cade. Cade e fa anche una bella caduta, dà una bella botta. Nel momento in cui lui è nella ghiaia dice smetto di correre. Quindi ha deciso nella sua testa senza dirmi niente perché è stata una cosa che lui inconsciamente ha deciso quando è caduto, no? In quel momento di quella domenica lì. Ed è lo stesso momento in cui io ho scoperto di essere incinta. Incredibile. Quindi è stato proprio il momento giusto senza che noi, senza saperlo, no? E poi quando gliel'hai detto? La domenica? La domenica sì, lui è tornato a casa e lui voleva dirmi che sarebbe diventato papà. Quindi è stato un momento in cui ci siamo proprio rassicurati a vicenda. Io perché avevo paura, comunque è un cambiamento grosso per me e per lui, avevo paura che lui non lo accettasse perché ho detto cavolo già deve cambiare vita. Dopo vent'anni che corri, non è anche il momento pure di avere un figlio perché non è proprio il momento giusto. E invece lui ha tipo fatto, sai, fa un sospiro di sollievo come per dire, ok, allora è questo il momento. Sì, si incastra tutto. Giulietta è nata il 4 marzo che è stato esattamente il primo weekend di MotoGP senza Valentino. Quindi è iniziato il campionato 2022, domenica 4 marzo e Giulietta è nata il 4 marzo. Quindi lui ha guardato la sua gara di MotoGP, la prima gara di MotoGP senza che lui fosse protagonista, no? Delle corse con Giulietta in braccio, quindi è stato… Credibile, da brividi. Da brividi, no? Guarda, è assurdo. Bellissimo. Vuol dire che era il momento. Eh sì, infatti. Vedi poi come tutto si incastra in maniera naturale. Credibile, sì, si guarda. Cioè ti cambia la vita e non puoi programmarlo, ecco. No, probabilmente se non l'avessimo programmato non saremmo ancora genitori, no? Perché se dici, o sei proprio pronto, che dici lo cerco, lo voglio e sono pronta, vabbè, allora quello chiaramente… Ma gliel'hai detto in un modo particolare o gliel'hai detto così proprio… No, io ho disperata, perché lui mi ha chiamato, mi fa amore, vieni a prendermi un aeroporto e andiamo a cena. Gli faccio no, vieni, vieni a casa prima. Ma come vieni a casa? Vieni a casa, amore, fidati. E lui già aveva capito che è strano, perché lui arriva a Rimini, diciamo che Tavuglia è un po' nell'introterra e dovevamo andare a cena verso Riccione, quindi non aveva senso che venisse lui a casa per poi tornare verso Riccione. Dovevo andare io da lui e poi andare a cena. Invece gli ho detto, amore, vieni, perché non riuscivo ad andare a cena con lui sapendo di essere incinta e mentendo spudolatamente anche live, no? Un conto al telefono, gli dico stamattina, ho fatto il vaccino, un conto è vedermelo lì e non dirgli che non ce l'avrei fatta. E dopo questi primi dieci giorni, diciamo, di follia, di pianti, di… No, allora, in realtà appena gliel'ho detto a lui. Ti sei liberata. Sì, perché forse inconsciamente la mia paura, cioè il mio star male era un po' perché chiaramente penso che capiti a tutte le future mamme, è una cosa che ti fa super piacere ed è una cosa meravigliosa ma che ti spaventa, perché parliamoci chiaro, fa paura. Cioè anche sapere che cambierai fisicamente, poi per chi fa il nostro lavoro, il mio lavoro, è uno shock mostruoso, tra virgolette. A te è pesato un po' il cambiamento fisico. Cioè pesa, pesa però non è che l'ho vissuto come, oddio, sto diventando, mi sta venendo la pancia, sto ingrassando. Comunque ho imparato a rispettare il mio corpo e quello che stava creando, no? Quindi ho avuto molto rispetto di me stessa e del mio cambiamento. Non l'ho vissuto come una critica a me stessa o al mio corpo. Quindi ho fatto un bel lavoro su me stessa, però è chiaro che non ti riconosci. Certo. Cioè arrivi a un certo momento in cui dici... Ti vedi diversa. Ti vedi diversa. Ti vedi diversa. Quindi già è difficile, è un cambiamento in più. Se pensi che il tuo compagno magari non lo vuole, oppure che gli vai a creare una cosa che... Non era programmata. Non è programmato, che comunque potrebbe fargli, potrebbe influenzargli, no? Anche una decisione così importante come era per lui decidere se correre o meno. Sono andata in paranoia mostruosa. Certo. Ho detto, e se adesso non lo vuole? Cioè io però non ero pronta anche a dire abortisco. Cioè è una cosa che non mi è neanche mai passata per la testa. Quindi ho avuto proprio crisi. Cosa facciamo adesso? Ma no, ma stai tranquilla, dai, stai insieme da sei anni, cinque anni. Ah, voi stavate già insieme da sei anni? Sì, sì, voglio dire, tanto se non è adesso, stai calmo. Però non sembra mai il momento giusto, cioè non sai mai qual è il momento giusto per questa cosa. Dopo quando glielo ho detto, lui era contento, lì ho detto, vai, allora sì, siamo pronti. Ce lo possiamo fare. E quando è che hai pianto la prima volta? Quando l'hai vista, quando te l'hanno messa in braccio? Allora io ho avuto purtroppo un parto un po' complicato perché ho sbagliato un pochino. il sogno, no? Ho sognato di fare un parto senza fidurale, sai, nella vasca, con Valentino che mi teneva la mano, quasi in casa, no? Sai quando dici come desideri il tuo dream. E quindi, inconsciamento, comunque in maniera un pochino superficiale, non avevo preso proprio in considerazione il fatto che potesse esserci un cesareo, no? Che si potesse fare, cosa che poi è successa. Sono arrivata nel momento in cui, dopo 21 ore di travaglio, 21 ore, la mia ginecologa ostetica mi ha detto, guarda chi di qua non esce, perché sei... Ma questa cosa mi sa che non me l'avevi raccontata quando ero in cittadina? No, 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 perché non ti volevo sciogliare. Non ti ho capito. Non ti ho racconti adesso, ma io dopo, perché avevo capito, questa non gliela dico, perché magari si... No, ma non è che prendere paura, è stata una mia decisione, no? Perché loro appena hanno visto che non mi dilatavo, mi hanno detto, facciamo un cesareo. Io, no, per carità, io voglio fare un parto naturale. Quindi mi hanno un attimo assecondato e abbiamo provato fino all'ultimo a vedere se mi dilatavo, se comunque con qualche massaggio, con qualche rito voodoo potesse dilatarsi, però no, perché era incastrata, quindi soltanto che io fino all'ultimo ho voluto insistere e dire voglio fare un parto naturale, non lo so perché. Non lo so, mi hai preso così. Te la sentivi così? Dopo proprio stava andando in sofferenza, stava diventando impossibile, quindi abbiamo fatto un cesareo e questa cosa del cesareo mi ha mandato in bestia, perché proprio l'ho vissuta male, ma senza motivo in realtà. Cioè ti sei sentita in colpa? Sì. Ho detto, cavolo, non sono stata capace o comunque il mio corpo non è riuscito a fare quello che doveva, no? Quindi sono andata un attimo in crisi e quando poi, vabbè, fai il cesareo, quindi ti vai in sala operatoria, fai l'anestesia, te la mettono, cioè quando poi la tirano fuori, te la mettono subito e poi quando l'ho guardata sono scoppiata a piangere perché ho detto, sarò scema. Cioè? Cioè non sei meno mamma se fa il cesareo. Assolutamente no. Quindi quel momento lì è stato un attimo di ripresa, di dire, però ecco, un consiglio che do. Brava, questo è un bel punto secondo me. Un consiglio che do. Per le future mamme. Per le future mamme. Prendete in considerazione tutti i metodi che ci sono, dal parto in acqua a casa con il compagno, all'epidurale che mi hanno detto tutto che è una figata, quindi se faccio il secondo, subito. Figurale. Già, ho già fissato. Ho già preso tutto. Che anche il cesareo, cioè informatevi anche su quali sono le procedure di un cesareo perché sono diverse. Comunque è un intervento, comunque c'è un posto operatorio, comunque ci sono dei punti, c'è una riabilitazione diversa. Cioè informatevi, cioè arrivate preparate perché fino a che non esce non si sa cosa può succedere, no? Certo. E io ero preparatissima su tutto quello che era il parto naturale e non sapevo niente sul cesareo, quindi è stato uno shock per me e ho sbagliato, sbagliato, non ho sbagliato, però… Quindi Giulietta avrà un fratello, una sorella comunque, se ti piacerebbe verne altri. Sì, sì, sicuramente sì. Ma guarda, ti dico, io sono cresciuta come sorella, quindi ho avuto la fortuna o comunque la fortuna di condividere, no? Di dividere, di non avere tutto per me, che secondo me nella crescita è una cosa che fa la differenza, specialmente nella situazione di Giulietta che è, immaginati, la principessina di casa. Però è sembra una famiglia grande, no? Perché voi vivete comunque anche in una situazione molto familiare, molto aperta, piena di amici. Sì, 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 noi siamo una grande famiglia, no? Sì, sì. Però ecco, l'idea che lei debba dividere un gioco, no? Deba dividere tutto quello che ha, secondo me per lei, per il suo futuro, per la sua crescita mi dà l'idea che sarà anche un pochino meno… Più educativo. Sì. Ti piacerebbe un maschio o una femmina? Allora, cioè, mi piacerebbe più un maschio, ma non perché io dica, non perché l'idea è un maschio meglio semplicemente per fare un'esperienza diversa, per avere l'esperienza di una femmina e l'esperienza di un maschio che tutte mi dicono che è proprio diverso come rapporto, no? La mamma col maschio, la femmina col papà, però semplicemente per questo… Giulietta impazzisce per Valentino o anche per te? Ah, Giulietta sì. Io dico sempre mamma, papà, papà, capito? Lo chiama proprio con questa… Sono innamorati. Sì. Mamma, nonna, papà. Voglio dire, ma perché? Però ci sta, è normale, mi dicono che sono tutte così le femmine. E il nome come l'avete scelto? Allora, il nome… cercavamo un nome che fosse romantico, perché Valentino è comunque in relazione una storia d'amore, Francesca, Paolo Francesca, Giulietta è… È perfetto. Un po' si sposava bene con i nostri nomi, poi è un nome lungo perché Rossi è un cognome corto, Rossi è un cognome comune e Giulietta è un nome comunque italiano, ma particolare che non se ne sentono tanti, quindi state un po' di idee insieme che alla fine… Ma l'abbiamo deciso subito, appena mi ha scoperto che era femmina… Subito, Giulietta. Si è venuto in mente per un'amica che aveva un figlio che si chiamava Romeo, comunque ci è balzato l'orecchio… Quindi se fate il maschio e Romeo? No, Romeo il fidanzato, dai. Romeo il fidanzato, se facciamo un maschio non lo so, adesso ci pensiamo, perché con Giulietta è difficile trovare un altro romantico, adesso ci pensiamo, intanto iniziamo. a lavorare. E a lei piace andare in moto, io vedo tutte le stories, mi sono idratta, mi faccio più. Però ti dico, guarda, è una cosa che lei, incredibile, ha nel DNA, perché Giulietta… Vabbè, un po' perché chiaramente in casa abbiamo le moto, i caschi, comunque Giulietta cresce… il sabato lei va al ranch, va al ranch, si mette lì, guarda le prove, guarda i piloti, sta lì, fa il meeting, sta lì a sedere… Ma è pure al meeting. Sta lì a sedere, guarda, ascolta e non gliel'ha insegnato a nessuno. Certo. È una cosa che lei… Ah, ma sono contenta, voglio dire, è un po' uno stereotipo dire il maschio va in moto, sì, nell'idea comune, nell'immaginario comune, sì. Però magari cambierà la cosa, sarà lei la prima campionessa di MotoGP della storia, non lo so. Ma la preoccupazione che lei vada in moto, sinceramente, è più dettata dal fatto che è uno sport pericoloso. Cioè, avrei la stessa preoccupazione se si chiamasse Giulio, capito? Non è perché è femmina, allora, oddio, vai in moto. Certo. E sarebbe uguale se fosse maschio, perché comunque è uno sport che, cioè, da mamma è una cosa che ti mette angoscia, vederli lì… A chi somigliati più, Giulietta, a te o a Valentino? No, a Valentino, 100%. 100%? 100%, Rossi, 100%. Sì. Ma è anche Valentino, nel mettere a posto le macchinine, cioè lei, a parte che lei gioca passeggino, le ho comprato il passeggino per andare con la bambola, lei mette sulle macchinine, quindi lei porta in giro le macchinine nel passeggino, le mette tutte in fila in ordine di colore, cioè, quasi preoccupante. Quanto sarà proud il papà. Lui è fierissimo. Fierissimo. Anche io ti dico perché è cazzuta, capito? C'è figa, nel senso, non è una principessina. Poi sicuramente lo è perché comunque è vanitosa, quando le faccio i codini è contenta, poi vabbè è piccola. Però è bello anche questa cosa di crescere nel ranch, non trovi? Cioè, meglio di crescere in città, forse. Cioè, è una crescita forse più vera. Sì, ma guarda, meglio o peggio non lo so, perché io sono cresciuta a Milano e, per esempio, nel… E sei cresciuta bene. E sei cresciuta bene, sono contenta di essere cresciuta a Milano, non lo so. Però il fatto che lei cresca a Ranch è più real, nel senso, proprio i rapporti con le persone, proprio perché c'è questo concetto di grande famiglia, è più… Mi sembra più una comunità, una cosa un pochino più naturale, meno costruita, un pochino più vera, ecco. Sì. Ma proprio come… Ma non solo come qualità di vita, che è chiaramente più sana, ma perché c'è il mare, siamo in campagna, quindi… È incredibile che noi ci siamo conosciute nel 2020, che non eravamo mamme e adesso ci ritroviamo qui a parlare da mamme. Sì, incredibile. Come ti senti oggi da mamma rispetto a quando ci siamo conosciute? Ah, completa. Completa, completa. Ovviamente ho più responsabilità, ho più paure, ho più ansie, più angosce, paranoie, ma perché penso che quello… quando tu hai un figlio è come se il tuo cuore o comunque la tua… il tuo tutto vivesse in un corpo fuori da te, no? Sì. Come se non riesci a controllare quello che può succedere a lei perché non è sempre con te, però è peggio che se succedesse qualcosa a te stessa, no? Quindi quella paura, quell'ansia che comunque non puoi controllare perché lei adesso è a casa e va a capire se cade, se si fa male, se ha la febbre. Sei un po' paranoica come mamma. Sì, ma non paranoica, però hai delle paure, delle cose. Io vado a letto la sera e ho i pensieri, mi sveglio nel mattino, chissà se ha dormito bene, no? Quando non ci sono io, chissà se la notte mi ha cercata. Amore. Sì, cioè hai tutte quelle paranoie, paranoie, dai. Paranoie, per quanto possa averne io, con una bimba in salute, con pensieri, chiaramente con degli aiuti, quindi paranoie… Già a due anni comunque si vede il carattere, no? Sì, 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 sì. E com'è? Si vede. Ci pensi a volte a quando… io adesso ho Aria che ha tre mesi, però penso che da questo momento, quando lei ne avrà due… No, no, no. Io quando guardo le foto di Giulietta a tre mesi mica la riconosco. Sì, lei… È cambiato tanto. Sì, sì, sì. Guarda, secondo me dai gli otto mesi, sette, otto mesi, quando iniziano a avere delle espressioni, quando iniziano a capire, quando proprio iniziano a indicare i primi svezzamenti, quindi le facce che fa quando mangia la prima mela, no? Quelle cose che inizia a dire, a capire, no? Sì, e tu ti sciogli totalmente. Lì, ma è un crescere, guarda, è una cosa incredibile, sono tutti momenti unici, sono tutti momenti incredibili, che poi quando guardi indietro dici però erano belli anche quelli perché non tornano, no? Perché comunque crescono talmente in fretta che magari quel periodo, i sei mesi, non te li godi tanto perché dici vabbè tanto che fa niente, sta qui nella collettina, dopo che ci pensi adesso, che invece mi gira per casa, si arrampica sugli specchi, dico però cavolo, quando aveva sei mesi, era meglio, stava lì, era quasi male, sì, infatti, io per il momento c'erò lì, il pastigino, poi l'avvento nella sdraietta, tutti questi movimenti super controllati. Sì, che è bellissimo, secondo me va goduto, cento per cento così, poi adesso che ha due anni, chiaramente il bello qual è? Che inizia a parlare, a dire le prime paroline. Cos'è che ha detto come prima cosa? Mamma. Ma tu una lacrimuccia ti è uscita quando ha detto mamma la prima volta? Ma non ha detto subito mamma, ha iniziato un po' con l'allazione, mi sembra che si chiami, quindi mamma mamma l'ha sempre detto, quindi da mamma 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 è stato un processo un po' lungo, quindi non mi ha fatto effetto la prima volta che mi ha detto mamma. Io sono là da aria e li faccio mamma, mamma, cioè se lo sto ripetendo si può talmente tanto fa così, dopo iniziano a dire mamma, mamma, poi è mamma, poi quando la prima volta che è mamma, che capisci che ce l'ha con te, cioè che capisce che tu sei mamma, allora lì dici cavolo, sono io. Sono io, è vero sono io. Tu che mamma sei? Allora io sono una mamma che è amica, nel senso sì, ma anche perché tu l'hai avuta giovanissima. Io l'ho avuta giovanissima e ho un po' questo riferimento, questo rapporto che io ho con la mia mamma che è stupendo, l'amica, io a mia mamma le raccontavo tutto ma anche le cose che non si raccontano. È meglio avere questo rapporto così. Comunque che devi prendere il pullman e andare a scuola, se non ti fermi a scuola ti fermi in Duomo a fare shopping. Ma tu sei giovane, ma Valentino che invece è più grande di te di qualche anno, quanti anni è più grande di te? È più apprensivo in questo senso, c'è un papà un po' più protettivo. Sì, adesso ancora non riesco tanto a inquadrare come la frontera lui perché Giulietta ancora è chiaramente piccola, però lui mi sembra uno che la pensa come me, cioè uno che la porta a ballare, anzi dopo sarà un problema portare via lui dalla discoteca, che la Giulietta, capito? Cioè mi sembra quel mood lì. Sì, che è super giovanile. Sì, sì, sì. Bello. Sì. Adesso domande scomode che sono quelle rosa. Quella rosa? Sì, quella rosa. Aspetta che facciamo vedere qui. Prendi la ball, brava. Addio. Addirittura? Che cos'è? Allora, sesso nel paddock. Che carina. Sì o no? Sì o no? Sì. Sì? Sì, ci sta. Wow. Ci sta. Brava, che sportiva. Ma sì, dai, ormai sdoganiamola questa cosa. Ma certo. Perché il paddock è immaginati un paese, immaginati un paese di solo… Penso di non essere mai stato dentro un paddock, quindi com'è? Allora, paese, non so, 20-30 team, forse meno, adesso non so con precisione, la maggior parte sono uomini perché ci sono anche tante donne, devo dire, che lavorano nelle hospitality o che comunque si occupano del comunicazione dei team o che fanno la stampa, quindi ce ne sono anche tante di donne, ma principalmente è un paese maschile, un posto dove ci sono tanti uomini meccanici, piloti, capi tecnici e poi ci sono le ombrelline, le fantomatiche ombrelline che io ero tra l'altro una di loro perché è così che è nata la mia strada d'amore con Valentino. Ah, così vi siete conosciuti? Sì, facevo l'ombrellino. Ma a lui? No, 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 a un pilota di Moto3. In realtà io che ci sono passata, è vera questa cosa, specialmente i piloti hanno talmente tanto da fare, talmente tanti cavoli da sbrigare tra comunque i meeting, le cose, che non è che hanno poi tanto tempo di dedicarsi a queste ombrelline o comunque poi a cena o andare a bere un caffè con una di loro, quindi in realtà… Non c'è da che… Non è che c'è tutto questo gran sesso nel senso, da quello che ho visto io, però se dovesse capitare, voglio dire, è una cosa che fa anche bene… Quindi ti è capitato? Sì. Certo, che belle stesse. Eravamo già una coppia però, eh? Quindi è tipo il posto più strano dove hai fatto l'amore. Eravamo già una coppia, quindi andavo già alle gare con lui, quindi dormivamo insieme tutte le sere, quindi magari non proprio il sabato prima della gara, però capitava che facevamo sesso durante il weekend di gara. Però da fidanzata. È il posto più strano? O ci sono posti ancora più strani? Beh, questo è strano, cioè nel senso… Alla fine non è che lo fai al box, non è che in moto. Quello forse sarebbe strano. Quello sarebbe strano, sì. Sì, cioè alla fine i piloti hanno tipo una loro casa, un motorhome, no? Dove portano tutti i motorhome che girano per tutti i circuiti e dopo è la loro camera e quindi alla fine è un letto, soltanto che magari ci sono le prove. Certo, allora è un posto più strano. Giulietta è nata il 4 marzo, con una delle canzoni più belle di Lucio Dalla. Comunque la musica è molto presente nella vostra famiglia perché siete amici con Cesare, Cremolini. Giova, con Vasco. Con Giovannotti, con Vasco. Sì, sì. È molto bella questa cosa. A parte che Valentino è un grandissimo appassionato di musica in generale, gli piace suonare, alla console, lui fa un po' il DJ alle feste, io faccio la ballerina vocalist. Ah, quindi avete un'altra, diciamo… Certo, noi se lui dovesse un discasso, se un domani lui dovesse a un certo momento decidere di cambiare vita, lui fa il DJ, tipo non so, sai in quei locali Ibiza sul mare, come c'è quel DJ che mette la musica di giorno, ecco. Tu Franci hai fatto 30 anni da poco, quindi qual è il tuo desiderio da mamma bellissima che oggi ha 30 anni, come vedi quest'anno e cosa ti auguri per i prossimi anni? Allora, mi auguro di avere sempre questa, diciamo, questa capacità di essere mamma, 100% mamma, veramente mamma che una notte si alza e che per viaggiare si alza alle 4 di mattina piuttosto che dormire fuori, quindi avere quella sensazione di essere una mamma presente, ma comunque di essere in carriera e fare quello che mi piace, quindi di avere sempre questa serenità in questo connubio tra mamma presente e mamma lavoratrice, cioè di non avere mai quel senso di colpa che mi impedisce di fare o la mamma o la lavoratrice, che sono le due cose che ad oggi mi riempiono di più. Che bello, grazie Franci. Te lo auguro anche a te. Grazie mille, sei stata stupenda, grazie. Grazie mille, grazie mille.